Volevo darvi un anticipo prima del video completo della mia colonia di Crematogaster scutellaris contro la forficola auricolaria e in tanti la conoscono solo con il nome di forficola oppure comunemente chiamata insetto forbice. È un insetto onnivoro e prevalentemente fitofago. Nel video completo vi farò vedere ogni singolo momento di questa battaglia e vi posso assicurare che hanno combattuto veramente tanto. In alcuni momenti la forficola sembra ormai battuta ma non è assolutamente così, infatti le formiche lo sanno benissimo e non mollano neanche per un secondo la morsa sulla loro preda usando le loro tenaglie molto forti per tenere fermo l'insetto da tutti i suoi punti deboli come le antenne e le zampe ma soprattutto come fanno tutte le formiche lavorano sempre in squadra e uniscono le proprie forze in modo da riuscire a bloccare insetti molto più grandi e molto più forti di loro. Devono stare anche molto attente perché questo insetto come difesa possiede delle pinze o tenaglie che potrebbero bloccare se non peggio uccidere una formica. Mi è sempre piaciuta questa specie con questi colori molto vivaci con la testa di color rosso acceso e il resto del corpo nero lucido ma la cosa che apprezzo di più di questa specie è la loro tenacia perché nonostante le ridotte dimensioni non rinunciano mai a catturare un insetto che possa diventare il loro pranzo. vi aspetto in tantissimi e iscrivetevi al mio canale dove vi farò vedere tutti gli scontri con le mie formiche come costruire un formicaio e tantissime altre cose ma soprattutto condividere questo hobby sul mondo delle formiche